Noi siamo particolarmente fortunati perché abbiamo un numero di donatori importanti, donatori di tutte le associazioni, dalla Fidas all'Avis alla Croce Rossa. I numeri stanno aumentando, contrariamente a quello che succede in Italia. Dal 2019 ad oggi sono aumentati di circa il 6,5% il numero delle donazioni di globuli rossi. Tuttavia aumenta ancora di più il consumo. Pescara città virtuosa in fatto di donazioni di sangue, ma non basta perché la macchina sanitaria deve recuperare ciò che il Covid ha lasciato in sospeso nelle liste d'attesa come gli interventi programmati. Il secondo problema è perché sono aumentate anche le richieste soprattutto dell'area dell'emergenza urgenza. Noi abbiamo registrato un aumento dal 2019 ad oggi del 37% delle unità trasfuse nelle aree di emergenza urgenza che sono il pronto soccorso e la rianimazione. Qual è il suo appello? Donare. Donare sangue è un gesto di senso civico elevatissimo. Credo che sia l'unico modo perché se domani qualcuno di noi ha bisogno di sangue sa che può contare sul dono di qualcuno che non conosce, ma che si è reso disponibile anche per me. E questo credo che tutti quanti lo dobbiamo sentire nel nostro cuore. Non possiamo pensare di essere generosi solo quando succedono catastrofi incredibili. Io ricordo il terremoto che c'è stato dell'Aquila e ancora più recentemente l'altro terremoto. Abbiamo avuto tantissimi donatori che si sono avvicinati. Pensate che stiamo vivendo un'emergenza simile. Ecco perché vi chiedo di venire a donare. Per facilitare la raccolta gli ambulatori saranno aperti tutti i giorni dalle ore 8 alle 14 giovedì fino alle 17 e il martedì dalle 17 alle 20. Per donare è sufficiente chiamare la FIDAS allo 085 29 22 93, la AVIS allo 085 29 34 219 oppure la Croce Rossa al numero 334 68 92 464. Ho iniziato per caso e mi sono pentito che ho iniziato tardi. Venite e vi sentirete bene, fare del bene.